Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro con il Tank e questo è un nuovissimo video che faccio questa volta su Minecraft, la puntata numero 2. Oggi faremo delle cose che vi dirò tra poco, solo dopo avervi fatto vedere le novità. Partiamo! Allora, la prima novità è che ho piantato un sacco di grano. Questo perché? Perché ho fatto in modo che il pane diventasse la mia principale fonte di cibo. Infatti vedete qua ho quattro panini, poi là dentro ne ho altri e poi devo raccogliere tutta questa. Quindi, questo ci porta alla prima cosa che faremo oggi. Oggi voglio fare un granaio. All'inizio avevo pensato di fare un mulino perché è più figo, più spettacolare e come tempo di costruzione praticamente penso che sia lo stesso. Il vero problema è che il granaio è fatto per il grano, quindi ho detto mi sembra più adeguato. Allora sono andato a cercare delle immagini di granai americani, quelli tipici rossi, avete presente? Ne ho creato uno nel mondo in creative e oggi lo porterò qua. Ho già creato tutto ciò che mi serve, ho deciso che lo farò di terracotta. Mi chiederete come si fa la terracotta? Allora, e come si trova? Innanzitutto sono andato nel fiume che c'è di vicino a casa mia, che è da quella parte. Ho preso le zolle di argilla. Dopodiché ho fatto il cubo di argilla mettendo quattro zolle qua. Le ho cotte, ho creato la terracotta e poi tramite il colorante ho creato la terracotta rossa e la terracotta bianca, la terracotta bianca per fare il portone. Altre cose che mi serviranno saranno il legno e il vetro, quindi che faremo con la sabbia. Perciò andiamo a cercare legno e andiamo a prendere della sabbia, cercando di non rovinare tutta questa bella zona. Ho fatto gli attrezzi di ferro, non so se li avevo fatti in un'altra puntata. Una cosa che dovremmo fare assolutamente è quella di andare a minare e quindi prendere del ferro. Vi chiederete perché? Perché devo farmi un'armatura, necessito di un'armatura. Ho preso la legna necessaria e l'ho già trasformata in assi. Volevo farvi vedere un'altra novità però prima di iniziare a costruire il granaio, cioè questa. Ho raccolto delle pecore dentro un piccolo recinto e ho raccolto là dei polli, che mi serviranno poi per fare le fredde principalmente, perché se mi nutro di pane per la maggior parte, i polli come ci pare? Tu che ci fai qua? Non mi servono. Ora costruiamo questo benedettissimo granaio. Andiamo a prendere ciò che ci serve all'interno della nostra casetta e iniziamo a costruire. Ma prima di tutto scegliamo la zona. L'ideale mi sa che è livellare qua e farlo qui. Sì ho deciso, livello qui e lo faccio qui. Ci vediamo tra poco. Sì ho deciso, livello qui e lo faccio qui. Ecco qua ragazzi, ho livellato tutta questa parte qua, perciò iniziamo subito a prendere tutti i materiali che ci servono. Ho calcolato che dovrò anche raccogliere tutto il grano che ho piantato, che è già cresciuto, perché credo che farò delle balle di fieno da mettere da qualche parte, in modo da farlo sembrare il più realistico possibile. Lo facciamo, va bene, partire da qui. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Dai facciamolo così, poi metto quello bianco, tac, e questa sarà la porta. Il bianco sembra un po' rosa, ma non importa, a noi non interessa. Forse sì? Ci interessa? Comunque l'idea è proprio questa, di farlo così. Lo facciamo alto, uno, due, tre, di più, assolutamente di più. Ok, abbiamo detto uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Può essere? Però non va bene così alto ovunque, devo farlo un po' livellato. Solo quello in mezzo sarà da otto, quindi questa fila qua, tutti gli altri di meno. E via via scalare scendendo, così gli diamo proprio la forma del tetto. Ecco, adesso ho già da più l'idea di essere un granaio. Direi di fare anche delle scale. Mi devo fare una crafting table, per forza. Se no poi finisce, che le cose devo farle sempre tornando là. Facciamo delle scale, però prima facciamo una cosa. Facciamo lo scheletro del nostro granaio. Mi sembra un'idea carina quella di fare il granaio. Sono contento di averci pensato. Anche perché ho cercato su YouTube e nessuno ha mai fatto un granaio. Hanno tutti fatto il mulino. E io ho detto, perché non fare qualcosa di originale? Poi dovrò distruggere qualche blocco per fare le finestre, ma devo ancora decidere dove farle. Sta iniziando a prendere forma. Iniziamo a pensare anche a un'altra cosa. Contreremo una cassa, spazio, una cassa, spazio, muro. Perfetto. Ora salgo da qua dietro e continuo a fare questa costruzione. Direi che devo copiare praticamente il davanti per fare il dietro. Non metterò lo stesso numero di finestre o comunque lo differenzierò, ma non lo devo fare neanche troppo differente. Direi che me ne vo a dormi perché non è il momento di morire. A proposito, sono morto mentre ero off camera e mentre andavo a cercare qualche minerale. Sapete come sono morto? Un creeper balordo ha deciso che era il momento di saltarmi in aria alle spalle. Torniamo su a lavorare perché non è il momento di pettinare le bambole. Di pettinare i bambini. Allora, mettiamo qua la nostra terracotta. Ma perché? Perché? Sarà il caldo. Qua si muore di caldo. È una roba incredibile. Non so da casa vostra. Io sto sudando come un coyote. È una roba... Ah, pazzesca. Cioè mi sento... Mi sento come se mi avessero messo attaccato al... Brutto gesto. Attaccato al paletto del kebab e mi facessero girare. Mettiamo... No! Sì, è decisamente il caldo. Mi sta dando alla testa. È il momento di fare il tetto prima di fare altre cose. 24 scale. Cerchiamo di non ammazzarci malamente. Come rende l'idea? Lo scopriremo più avanti. Quindi facciamo la stessa cosa di qua. Credo di averne abbastanza di terracotta. E la cosa mi rende felice. Perché trovare tutta quella argilla sott'acqua non è così facile. Cioè... Mannaggia la miseria, mannaggia. Mannaggia la miseria, mannaggia. Credo che Minecraft mi odi. Lo sottoscrivo. Minecraft odia me e il mio piccolo Steve. Ah, mi l'ho dimenticato. Siamo tornati in un'altra puntata della serie Nella terra di Steve. All'inizio non l'avevo detto. Ed è importante distinguere la mia serie da quella degli altri. Poi dovrò fare il tetto partendo da questi scalini che ci sono già. Quindi iniziamo subito a farlo, va? Di sicuro non così. Faccio un'impalcatura attorno a questo maledettissimo tetto. Perché sennò continuo a cadere. Non sa legna, perciò ne vado a prendere ancora. Ora faccio un piccone, ragazzi. E torno a lavorare. Perché qua mi chiama il lavoro. Il lavoro urge. Ma ah, l'ascia. Non dovevo fare un piccone. Pirla me, pirla me. Allora ragazzi, abbiamo fatto una nuova ascia. Siamo andati a dormire. Adesso andiamo a prendere l'altra legna. E torniamo a fare il nostro granaio. Allora, prendiamo più legno. Più legna. Legna! È finita la legna! Legna! Mi ricorda niente? Qualcuno ha mai visto quella puntata di Knuckleheads? Devo prenderne di più. Ed eccoci di nuovo qua, ragazzi. Off camera ho fatto alcune cose. Ho finito di mettere il tetto. Ho messo a cuocere della sabbia che avevo già all'interno del mio inventario. E ho fatto dei buchi per i vetri. Ecco infatti i vetri che utilizzerò per fare le finestre. Innanzitutto lo mettiamo là in alto. Ah, un'altra cosa che ho fatto è stato fare il secondo piano. Vedete? E qua ci metterò una scaletta che sale. Quindi iniziamo a mettere i primi vetri. Undici vetri ancora. Si, inizia a vedere il granaio. Dovrò prendere anche una porta ed inizio a prendere tutto questo grano. Perché ci devo fare le balle di fieno. Le balle di fieno verranno poi utilizzate come praticamente ornamento per la parte sopra del nostro bellissimo granaio. Tre balle di fieno. No, non bastano, non bastano, non bastano. Ancora balle di fieno. Ho bisogno, ho bisogno di ancora più balle di fieno. Questa sarà la prima delle costruzioni che rimarrà. Poi più avanti farò le farm di tutto. Quindi avrò spostata la concentrazione del cibo. Ma questa parte qua rimarrà di sicuro. Facciamo un po' di scale. In modo da poter salire tranquillamente al piano di sopra. Col fatto che ho messo il piano di sopra non ho più il problema dell'altezza. Non devo arrampicarmi sopra la casa per poi poter mettere il vetro. Mettiamolo qui. E chiudiamo questa parte. Poi dovrò fare anche le casse. Devo fare il pavimento. Il pavimento lo farò rigorosamente in legno. No. Aha. Dovevo farmi uno scherzone. Uno scherzo da preti era. Che poi, ragazzi, ve lo chiedo. E vi farò anche l'interrogatorio. Sapete perché si dice scherzo da preti? A me i preti non sembrano grandi burloni, vi dirò. Fatemelo sapere nei commenti. Per forza. D'obbligo. Vado a fare le casse. Te ho visto una cosa. Questa porta. La porta di quercia, voglio. Direi che le mettiamo sotto le finestre. Che dite? Ci può stare qua, andrà tutto il grano raccolto. Mi sa che oggi la sessione di mining salta. La farò la prossima puntata perché bisogna trovare questi maledettissimi diamanti. Abbiamo preso la legna, quanto ne abbiamo presa? Molta di più dell'altra volta. Basta? Non credo. Non importa. Facciamo altre casse. Sette casse. Vediamo se bastano. Forse bastano. Abbiamo messo le casse. Ne ho messe quattro doppie casse. Dopodiché ho fatto il necessario per poter mettere al di sopra alcune balle di fieno. Ne ho fatte 15 e adesso le piazzo. Con il fondo due. Due qua. Una qui. Voglio farle un po' sparse. Qua in mezzo. E una qui. Ci sta? Dopodiché ho deciso di riempire anche questa parte. Sarà questo all'interno del granaio. Poi mettiamo delle torce. Ne ho sette. Allora mettiamo una qua. Una qua. Una qua. E due qua. Direi che ci può stare. Poi qua ne mettiamo una qua sopra. E una qua sopra. Molto semplicemente. Carino qua. Sembra un po' lasciato l'aria infusa. Come se davvero fosse fatto dai contadini. Un'altra cosa che dobbiamo fare. Adesso vado a dormire. Sarà quella di fare poi le nostre bellissime armature. Queste le farò con del ferro. Senza andare a minare. Perché in questa puntata non ho tempo di andare a minare. Perciò facciamole subito. Ne facciamo. Subito. Uno. No. No. Che idiota. Ho usato tutto il mio ferro per fare tutte queste armature. Non ci credo. Un, due, tre, quattro, cinque gambali. Che spreco ragazzi. Che spreco. Non importa. Non importa. Ora. Concludiamo là mettendo la porta. Vediamo se ho dei pezzi di fieno all'interno della mia casa. Sto usando parecchio queste bellissime cose. Quali sono le ricette. Perché mi viene molto più comodo. Molto più veloce. È stato un bel aggiornamento. Direi che si conclude così il nostro granaio. Che ne pensate. Carino. Direi di lasciare la crafting table. Qua sopra. La metto qua. In modo che se avrò appunto quella necessità potrò farlo. Definirei un fail. Il fatto che abbia fatto cinque pantaloni. Gambali. Gambiere. Come le chiamate. Al posto di fare tutta l'armatura. Un ferro necessario. Mannaggia. Comunque. Ecco il nostro granaio. Io direi che sono soddisfatto. Direi che la puntata si conclude qua ragazzi. Spero che vi sia piaciuta. Spero che vi sia piaciuto il nostro granaio. Vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a lasciare un bel mi piace. E a iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto. Vi auguro una buona continuazione. E ciao ciao belli. Ciao ciao. Ciao ciao.